Siamo quasi all'aperto. Dobbiamo trovare uno specchio d'acqua vicino al centro dell'isola. L'idrovolante potrà atterrare. Jimmy! Lampi! Siamo qui! Preston! Tutto ok? Cercate di ammarare qui! La corrente è troppo forte! Remate! 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 Non ce la faremo mai! E invece sì! Sbarcate appena potete! Sì! Invece no! Ma come? Li incontreremo più tardi. Andiamo. Dobbiamo trovare un luogo dove possa arrabbare l'idrovolta. Ace! Non troppo distante, Jack! Ace! A posto. Ho abbastanza munizioni. Jack, guarda! Sembrerebbero delle... una civiltà perduta! Davvero... Tu! Attenzione! Sta per cedere! Occhi aperti! Siamo nel loro territorio di c***a. Piccolo cieco. A posto. Ho abbastanza munizioni. Sembrerebbe una sorta di cimitero. Un set perfetto per girare. Autenticità, Jack. Realismo. Togliti di lì, Jack. Al riparo! Aiuto! Qualcuno si è fatto male. Ci penso io. Uno in meno. Un momento, Denham. L'hai trovato abbastanza realistico. Forza, El. Proviamo un paio di inquadrature davanti a questa quadrature. Mi scusi, Mr. Denham, ma non dovremmo prima ritrovare Presto negli altri? Presto? Grande idea. Senza la sua scorta di quadrature non andiamo lontano. Lassù! Guardate! 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 Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Sì, sì, sì. 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 Sì, sì.